C'è uno screen? Che screen? Video, video! Vabbè Non sa voglio avermi spiegato Invece no Oddio E non la perdo mai Adesso puoi toglierlo Te lo vado ad aiutare gli altri No no, vai tu Non so se sarà buggato Puoi anche saltare, guarda che roba Adesso ti sarà buggato qualcosa Questa cosa della doppia fatta Vedrai Scuro Perché tipo quando l'ho pigiato Gli ho dato un mini lag di mezzo secondo E infatti vai avanti di te e io Come Come si dice Di cast Sono in cast, guarda Nice Beh tu vai avanti Anche le cose Io vado a liberare le cose No no, facciamo al contrario C'ho più vita io No no È meglio Così li tanki meglio No no Adesso andiamo tutte e due Non prendiamo nessuno Come io sto Stavo facendo modi questo tizio Perché mi sono incastrata E tipo Vabbè Facciamolo Proviamo, vado Pronto? Pronto? Aspetta fanno andare avanti a me Ok ma li hai presi tutti Sto parlando tutti Scappo Blocca Blocca di D Scappo Sì sì Ah ma aspetta ma tu come Ah no tu puoi tornare normale È vero Perché se io parlo con questa cosa Diventa normale Perché questa cosa Si basta unito del buff Io ho aggrato Sì sì No no perché non ti trovo Anche l'ho tolta Puoi togliertelo il buff No no aspetta fai Vengo di spallare Non ci arrivo Eh Ero ancora qui Non ci farmi affatto io Non è colpa niente